Buongiorno a tutti, con il video di oggi torniamo a fare recensioni di produzioni cinetelevisive da un bel po' che non mi lanciavo in questo tipo di video che sono stati sostanzialmente caratterizzanti per oltre un anno, quindi abbiamo questo canale come probabilmente saprete o magari per i più affezionati è nato durante il periodo, il primo lockdown in occasione appunto di un momento di resistenza a casa di necessità obiettiva di non poter uscire di casa e quindi mi era sembrato una cosa simpatica poter fare delle recensioni di film all'epoca, soltanto film di spionaggio, di guerra poi piano piano si è allargata un po' a macchia d'olio e la produzione cinetelevisiva di cui voglio parlare oggi è la fuga del generale Roatta uno sceneggiato Rai prodotto nel 1984 che onestamente io ho scoperto da YouTube e soprattutto ho scoperto da YouTube attraverso la segnalazione di alcuni di voi che in maniera autonoma negli ultimi tempi mi avevano suggerito di poter occuparmi di questa di questo prodotto televisivo che tra l'altro io non l'avevo neanche mai visto quindi è stata per me una scoperta perché è uno sceneggiato poco conosciuto devo essere sincero e appunto nonostante sia fruibile in maniera libera, gratuita su YouTube mancava un po' nel... perché per esempio ho cercato anche su internet cercare qualche altra informazione rispetto alle poche che sono presenti appunto a corredo e a commento dello stesso video caricato su YouTube e non ho trovato sostanzialmente nient'altro quindi diciamo è un elemento di grande curiosità anche per me e secondo me non c'è neanche tutto su YouTube perché per esempio mancano sia dietro di testa dietro di coda, finisce secondo me un po' tronco, forse qualcosina alla fine potrebbe anche mancare però nonostante questo io vi invito caldamente a vederlo, dura circa un'ora e un quarto quindi è molto fruibile per tutta una serie di motivi è un po' lento, è un po' datato, diciamo già diciamo subito alcuni elementi critici di questa produzione ovviamente è un tipico prodotto televisivo degli anni appunto 70-80 potremmo dire con un elemento molto teatrale la caratteristica di molti sceneggiati, soprattutto Rai, di quel periodo un po' in eredità alla grande tradizione degli sceneggiati Rai che c'erano stati già negli anni 50-60 mantiene un po' di andamento teatrale un andamento che appunto tende con gli anni ad invecchiare male rispetto a ovviamente delle produzioni più recenti che hanno un brio un ritmo sicuramente più serrato, più coinvolgente più collegato tra ciò che si vede e ciò che si ascolta quindi sicuramente ha delle caratteristiche che hanno fatto perdere a questo tipo di prodotto una serie di attrattive però nonostante questo secondo me è uno sceneggiato di grandissima importanza e secondo me grandissima importanza perché ci denota come fino a 40-50 anni fa vi fossero un coraggio, una curiosità di affrontare dei temi seppur non lontanissimi nella storia recente comunque che potessero in qualche modo dare un appiglio e un rapporto anche tra il passato e il presente e vi posso assicurare che soprattutto nell'ultima parte senza fare spoiler nel senso che sostanzialmente poi lo si sa già dall'inizio che Roatta fugge quindi diciamo non è niente di... non sto svelando nulla tra l'altro appunto inizia anche con la fuga è una sorta di... lo sceneggiato ripercorre con una serie di flashback e di finzioni narrative in cui attraverso il andare avanti e indietro con l'inserimento di più piani narrativi ci sono degli elementi di intervista quasi nella fase ultima della vita di Roatta ci sono degli elementi cronologici che si vanno a intersecare e che secondo me non sempre per un pubblico come quello odierno che magari non conosce a fondo la carriera di Roatta che magari non riesce a distinguere gli elementi uniformologici che sono molto molto fatti bene poi farò un accenno sull'aspetto dei costumi delle ambientazioni che secondo me è un elemento di grande merito nonostante sia una produzione che è piuttosto semplice non ci sono stati fatti dei... si vede che non ci sono state delle produzioni così massicce non ci sono impianti di utilizzo di grandi scenografie di ricostruzione che sono abbastanza elementari appunto ripeto ha una sua impostazione prevalentemente teatrale nella propria semplicità della esposizione nella dinamica anche delle azioni stesse del recitato quindi questo è un elemento interessante ma vorrei tornare invece all'argomento principale ossia il contenuto il contenuto che sostanzialmente si sviluppa sul fatto che a un certo momento questo già ci viene spiegato all'inizio della pellicola in cui sostanzialmente a partire dall'estate del 1944 con l'introduzione di un governo chiaramente antifascista con la liberazione di Roma si voglia fare una netta cesura con il periodo precedente quindi nonostante vi sia ancora la monarchia in realtà c'è stata una sostanziale devoluzione da parte di Vittorio Mometerzo nei confronti del figlio Umberto e quindi si vuole in qualche modo dare un segnale a livello interno ma anche probabilmente a livello esterno nei confronti degli alleati di tagliare con il passato colpevolmente complesso e colpevolmente implicato nel fascismo quindi il tentativo anche di mettere all'angolo Badoglio ma l'obiettivo principale è la Costituzione dell'Alto commissoriato contro i crimini del fascismo quindi è un'operazione giuridica che può avere degli sviluppi a livello internazionale pensiamo al processo Norimberga ovviamente ha una sua connotazione completamente diversa ma che in qualche modo vuole evidenziare le responsabilità e la volontà da parte di un'Italia rinnovata o rinnovabile nel poter punire coloro che sono macchiati di una serie di addebiti nel periodo fascista allo stesso tempo è una chiara operazione politica sia giuridica ma politica e quindi questo è un elemento, il grande paradosso dell'epurazione, ma poi in realtà della mancata l'epurazione in Italia dei crimini fascisti contro la democrazia, contro la libertà, contro i singoli eccetera che si va un po' a ricollegare al concetto della mancata Norimberga italiana su cui tra l'altro vi invito a vedere magari poi lo metto in descrizione a una diretta YouTube che circa un mese e mezzo fa ho fatto insieme all'amico Mike Spadoni Metal Mike sul suo canale abbiamo fatto questa diretta in cui io andavo un po' a scandagliare a valutare, a spiegare i motivi per cui non vi è stata un'effettiva epurazione un'effettiva giustizia che si sia svolta in Italia contro coloro che si sono macchiati di responsabilità durante il fascismo quindi il film, lo sceneggiato della Rai ci vuole in qualche modo dare un'imbeccata su le motivazioni politiche e giuridiche quindi entrambe verso una serie di responsabili che però poi alla fine per abilità propria nel volere un po' girare la frittata dall'altra aver trovato delle stratificazioni compiacenti a vari livelli tali da da una parte sminuire sensibilmente le responsabilità dei singoli per una solidarietà di parrocchia sostanzialmente il fatto che ovviamente Roatta ma come altri erano stati degli alti impiegati degli alti funzionari dello Stato nelle varie branche che potesse appunto il Ministero della Guerra allo Stato Maggiore il Ministero degli Affari Esteri il Ministero degli Interni quindi c'erano delle dinamiche di affiliazione e di mantenimento di certe relazioni che ovviamente non erano radicali nel senso che le epurazioni che c'erano già state gli avvicendamenti per quanto appunto potessero essere e questo era un grosso problema di discorso che c'è la continuità dello Stato non è possibile rasare a zero radere a zero la macchina dello Stato perché appunto ci si troverebbe di fronte a non sapere cosa mettere nelle prefetture nelle questure nelle ambasciate nelle amministrazioni pubbliche delle varie strutture quindi inevitabilmente c'era una categoria medio-medio medio-alta di funzionari che erano comunque implicati con delle relazioni particolari tra cui appunto all'interno degli ambienti militari con i vertici militari ma che comunque appunto fiancheggiavano cercavano c'erano delle amicizie delle consorterie che in qualche modo facilitavano anche appunto poi la fuga di Roatta è stata diciamo in qualche modo aiutata da certe intrature che si erano create all'interno dell'intero apparato dello Stato che manteneva comunque questa struttura ambigua un po' grigia dall'altra parte vi è da parte di Roatta e nel film è particolarmente evidente come Roatta come una serie di altri personaggi dicono e non dicono nel senso che ammettono svelano delle relazioni particolari che in parte potrebbero scagionare nel senso che dice sì noi abbiamo ci siamo macchiati di determinate cose che potrebbero essere criminali però le abbiamo fatte perché in qualche modo eravamo all'interno di una catena che scendeva e saliva e quindi quando sale c'è qualcun altro che comunque ce l'ha chiesto ce l'ha ordinato e quantomeno magari è anche informato nella minore delle ipotesi quindi diciamo fa evidenziare come sì io posso essere condannato ma se mi condannate poi io sono obbligato a parlare e se parlo probabilmente qualcuno sopra di me va a pagare di più nel senso che qui c'era il problema del padoglio il sovrano quindi c'è una sorta di ricatto in cui il senso che cada Sansone muoia Sansone con tutti i filisteni nel senso che poi dopo si apriva una voragine che la metà bastava come si suol dire quindi si entra anche in dinamiche particolarmente contorte in cui emerge nel corso della narrazione come sostanzialmente si ha la volontà politica di giudicare di punire però poi si capisce che se uno è coerente in questo obiettivo poi crea un problema a livello sempre politico non indifferente quindi si contrappone la volontà diciamo giustizialista anche legittima e dall'altra parte c'è la volontà comunque di pacificazione di cercare in qualche modo di trovare una quadra proprio perché siamo in una realtà 44 45 46 47 sia nel periodo fino al referendum ma anche dopo con delle relazioni particolari c'è il problema del trattato di pace ci sarà il problema est-ovest quindi capite bene come questo problema questa necessità di trovare dei responsabili all'interno della filiera degli organi dello Stato avrebbe comportato comunque delle problematiche non indifferenti sotto l'aspetto della struttura della logica delle relazioni vista appunto l'attività politica parlamentare siamo al rapporto tra all'interno della filiera antifascista in cui sì nel 44 ancora sono tutti amici tutti quanti hanno una visione grossomodo condivisibile nella lotta ma al dopo le crepe si evidenzieranno tra partiti di centro partiti di centrodestra partiti di sinistra quindi questo è un elemento interessante anche nel comprendere come in quel periodo specifico gli equilibri erano sì esistenti ma erano molto precari quindi all'interno di questa struttura si vanno a inserire anche queste figure particolarmente grigie particolarmente compromesse col passato regime ma che possono creare delle problematiche quindi alla fine tutto si sistema tutto tace tutto va a essere soffocato dietro alla fuga più o meno facilitata di Roatta oltre al fatto appunto che poi vi sarà l'amnistia Togliatti che in qualche modo appunto renderà impuniti impunibili quello che come chiamatele come pare tutta la filiera di coloro che erano stati anche già condannati anche a delle pesanti pene detentive quindi è uno sceneggiato che si colloca all'interno di un ambiente un periodo ripeto siamo negli anni metà anni 80 con delle tematiche anche di politica che va verso un certo seguito quindi permettetemi il paragone che forse è un po' azzardato ma alcuni passaggi dell'intervista che viene fatta quando sta in esilio e si è mai scappato in latitanza Roatta un giornalista che sostanzialmente gli fa delle domande un po' piccantelle nel senso che in cui cerca di sfrugugliare e poi si capisce solo alla fine che in realtà la realtà è andata molto a base siamo in un punto della narrazione questi inserimenti questi cunei che si vanno a inserire all'interno della narrazione in cui questo giornalista fa delle domande e devo essere onesto mi ha ricordato molto il film Ammanet dove c'è anche lì un giornalista che fa delle domande a un personaggio appunto come sappiamo che è all'estero è andato all'estero per una serie di motivi e che appunto ha delle pendenze con la giustizia in Italia quindi ho trovato una certa simiglianza ovviamente non so se Amelio si è rifatto in parte ha voluto cogliere un'occasione da questo sceneggiano che non l'ho detto di Tommaso Sherman con un cast interessante di attori poco noti o pochissimo noti diciamo cito giusto Franco Interleghi che è forse quello più più noto all'interno di una serie di personaggi magari conosciuti a livello visivo ma che poi dopo non si ricorda chi possano essere tra l'altro Interleghi che fa il ruolo del colonnello Emanuele tra l'altro una cosa curiosa è che vengono utilizzati i nomi veri con personaggi veri persone ancora che magari all'epoca erano viventi quindi diciamo vi è stata secondo me anche una difficoltà nel dover trattare dei temi così delicati a sostanzialmente 40 anni scarsi dalle vicende narrate in cui c'erano dei personaggi appunto che magari ancora potessero essere coinvolti pensiamo appunto a Ines Mancini la moglie di Roatta il generale Emè quindi diciamo dei personaggi che magari erano ancora viventi adesso io non sono riuscito a capire bene come è stata siamo arrivati a questo tipo di sceneggiato quale sia il contributo le possibili cause legate per diffamazione da parte di qualcuno che magari si è potuto sentire colpito siamo sempre in Italia lì le cose sono molto molto difficile uno pensa come il film Il grande dittatore di Chaplin che era del 40 a cui sono state tagliate le parti in cui c'era la moglie di Bonito Napoloni quest'alter ego di Mussolini in cui c'era la moglie che ballava e cadeva e in Italia queste scene sono state tagliate fino a quando non è morta Rachele Guidi il Mussolini quindi diciamo capiamo bene come vi siano sempre in Italia sempre delle difficoltà anche a trattare temi di questo tipo quindi mi ha incuriosito e mi ha stupito in positivo il fatto di trattare un argomento di questo tipo in modo così esplicito così polemico così graffiante all'interno appunto di una un contesto storico di realizzazione negli anni Ottanta ancora o forse ancora o non so se non riesco a capire se è troppo presto o troppo tardi perché magari solo in quel periodo si potrebbero fare oggi forse sarebbe impensabile un lavoro del genere non lo so le ultime produzioni storiche non mi sono piaciute per nulla l'ultima nota sui costumi ah i costumi sono molto fatti veramente bene nel senso che secondo me la maggior parte degli uniformi utilizzati erano veramente d'epoca nel senso ho notato una qualità una ricercatezza anche nelle progressioni delle uniformi nel senso che visto che poi ci sono dei momenti sostanzialmente dal 35 fino al appunto al 45 nella contestualizzazione degli uniformi circa 10 anni sono molto molto accurate ho trovato solo un errore quando Roatta prende l'incarico come capo del sim che era un colonnello nel 35 se non vado se non mi sono citato a memoria 35 sì 35 34 probabilmente il suo ingresso come capo del sim l'uniforme da colonnello ma è una modello 40 con il bavero grigio verde con le controspalline con i bottoni di frutto con i bottoni di frutto anche sul davanti quindi quella è un uniforme entrata in servizio nel 1940 e lì siamo nel 35 grosso 34 35 quindi ha degli elementi che poco sono coerenti per il resto è tutto fatto molto molto bene quindi diciamo sicuramente promuovo a pieni voti questo lavoro che ovviamente come dicevo inevitabilmente è un po' datato per un impianto narrativo per un impianto nello sviluppo degli eventi del modo in cui viene rappresentato però ovviamente all'epoca si faceva così negli anni 80 quindi è tutto normale non pretendiamo di avere una realizzazione tra l'altro ripeto televisiva con dei canoni specifici con un approccio poi appunto probabilmente avrà anche subito delle recriminazioni dei tentativi più o meno evidenti di poter visto che si tratta sempre di televisione pubblica quindi sappiamo bene come la televisione pubblica poi diciamo è un po' condizionata da da influssi dei vari dei vari ceppi politici culturali e similati dei poteri forti eccetera quindi detto questo come al solito vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale alla prossima e vedetevi la fuga del genere alta perché merita molto molto ciao ciao